E' successo a Palermo, ma il caso è entrato in tutte le scuole della Sicilia e dell'Italia, nella coscienza e nel dibattito di ogni aula, classe e gruppo di discussione da nord a sud. In palio c'è la libertà di manifestazione del pensiero e la libertà di insegnamento. C'è il valore del pensiero critico, che è il fondamento dell'istruzione pubblica e della stessa democrazia. E' così da Palermo a Ragusa iniziative prese di posizione di solidarietà a Maria Rosaria Dell'Aria, l'insegnante sospesa per 15 giorni dal lavoro e dallo stipendio per non aver vigilato e quindi impedito, questa è l'accusa, che gli studenti in un video realizzato nell'ambito del loro impegno scolastico mettessero a confronto i diritti umani violati dalla legislazione nazifascista e i diritti umani toccati da alcune norme del decreto sicurezza. E in molte piazze, studenti e insegnanti hanno manifestato contro l'assurdità di un provvedimento che ha tutto il sapore di una censura e intimidazione, una concezione dell'insegnamento che è il contrario di ciò che prevedono i principi costituzionali. In nessuna parte del contratto scuola, in cui è definita la funzione docente, e la responsabilità disciplinare, troviamo tra i motivi di sanzione la mancata censura dei propri studenti, evidenze USB scuola, l'unione sindacale di base. È ormai evidente e palese che la decisione degli ispettori del provvedimento rato è esclusivamente di natura politica.